Senti, 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 parlavo con calma, no, senti, con calma, con calma. Buongiorno, suomestà, hai riposato bene? Come storia di filosofia come me, costretto a fare le stesse cose che fanno gli altri, e già! E non ce la faccio più, non la sopporto. Quel paglio di corna vedrai! Stanchi della vita quotidiana? Secondo me, forse da ancora far... Mai etto solo! Maura! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.